La festa dei giovani contro la precarietà e contro la manovra, si attende un flash mob, i preparativi in corso, il nostro inviato è Matteo Parlato. Buongiorno, buongiorno a Piazza Montecitorio, come vedete alle mie spalle, è cominciato adesso il flash mob, questo è un flash mob organizzato da un gruppo che si chiama Tilt e vuole parlare di queste generazioni di giovani che vive peggio delle generazioni precedenti, che come vedete in questo muro ideale che hanno fatto sono bloccati dalla violenza, dal razzismo, dalla disinformazione, dal macismo e ora vogliono abbattere questo muro e vogliono soprattutto cercare di farsi sentire da chi è dietro, dietro questo palazzo che ha le nostre spalle, dove ci sono i parlamentari e anche i senatori. Ecco qua, eccoci qua. Bene, e così diciamo in questa maniera un po' scherzosa e un po' sdrammatizzante hanno voluto abbattere questo muro che impedisce a loro di essere persone complete e di rimanere in un mondo appunto di precarietà e se non avete altre domande vi lascio a questa immagine e poi vi restituisco la linea. Abbiamo costrutto una generazione non di più d'una, l'hanno messa in ordini, hanno tentato di frammentarla, di avventirla, ma invece quella generazione è qui per riprendersi il suo presente, per disegnare un futuro diverso, un futuro a fatto del rispetto della limitazione, della riconversione economica, del rettito venivo di italiano. Allora torniamo in studio, abbiamo visto, grazie al nostro Matteo Parlato,